Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto vlog Oggi ci dirigeremo verso Bologna Centrale Eccomi qui che prendo il treno Bastardi, chiamo da Reggio Emilia Eccomi qui è arrivato a Bologna Centrale E subito iniziamo con i famosissimi portici di Bologna La prima cosa che ho visto appena sono arrivato Avete presente questa finestra dove si vede questo canale in mezzo a delle case? Ecco ci sono andato ma bisogna fare la fila Visto che a me non va di fare la fila Ho ripreso tutto dall'altra parte Ecco accontentatevi di questa scena qui Mi sono diretto poi verso le due torri Le famosissime Garisenda e degli Asinelli Devo dire che sono molto lunghe e belle Direi che le due torri sono approvate Non potevano mancare i famosissimi artisti di strada di Bologna E ora ci dirigiamo verso il centro di Bologna Cioè Piazza Maggiore Dove possiamo trovare la Basilica di San Petronio Ecco adesso sto leggendo su Google Maps che si chiama così e io non lo sapevo Direi che è approvata anche questa qui Un altro palazzo che si chiama Palazzo d'Arcursio Un altro artista di strada però questo qui molto più bravo E dopo aver visto la famosissima Piazza Maggiore Con la sua Basilica di San Petronio Mi sono subito diretto verso la Fontana del Nettuno E devo dire che questa Fontana è veramente fighissima Mentre che ti mostro la Fontana del Nettuno Ti ricordo di lasciare like e di iscriverti al canale In modo da non perderti nessuno dei miei blog Approvata anche la Fontana del Nettuno Mi dirigo verso la stazione per intornarmene verso Treviso E nel mentre vi lascio anche delle clip che ho fatto al ritorno Nei giorni scorsi sono anche andato in provincia di Regimilia Dove ho passato delle giornate con i miei zii E vi lascio delle riprese che ho fatto con il drone sui colli emiliani E vi lascio delle riprese che ho fatto con i miei zi E vi lascio delle riprese che содержano Oggi che ho fatto con i miei zi E vi lascio delle riprese che ho fatto con i miei zi Che ho fatto con i miei zi Visi E per come come un bere Grazie per la visione